Siamo con Giampaolo Giuliani qui a Pescasseroli per la presentazione del libro di Sonia Paglia, L'urlo dell'orco. Dottor Giuliani, lei ha parlato di un progetto molto importante a livello internazionale per la previsione dei terremoti. Può dirci qualcosa di più? Dal 2 al 7 maggio 2010 si è svolto a Vienna il congresso dell'Ego dove si sono incontrati più di 10.000 ricercatori sulla geofisica, sulla sismologia del mondo e in quella circostanza è nato questo progetto, quello di mettere insieme l'esperienza, almeno in quella circostanza, di 15 ricercatori di tutto il mondo, compreso me, di partecipare alla realizzazione di un progetto, l'Early Warning System, che permetterà di poter allertare un evento sismico, catastrofico, forte, in qualsiasi parte del pianeta. Lei ha detto che il terremoto non uccide, una frase che abbiamo sentito dire tante volte, e lei ha detto che il terremoto si può prevedere. Quando lo disse l'anno scorso, molti non le hanno creduto. Come si è sentito in quei momenti? L'esperienza di non essere creduto l'avevo già fatta da tanti anni, ma non serviva che lo dicesse Gian Paolo Giuliani che il terremoto poteva essere, può essere previsto, perché essendo un fenomeno fisico, come tale ha delle cause che lo producono, studiando le cause è possibile prevederlo, così come è possibile prevedere la pioggia, una forte nevicata, una burrasca, qualsiasi fenomeno della natura può essere previsto. Una volta la pioggia veniva considerata dall'uomo una maledizione di Dio, così come il terremoto, fino a pochi anni fa, veniva considerato una maledizione di Dio, ma non è così. Lei ha detto a un certo punto nel suo intervento, svegliatevi. Qual è l'appello? Che cosa voleva dire? Volevo dire che tutti devono sapere la verità, la verità scientifica, il fatto culturale che fino ad oggi è stato tenuto mascherato, nascosto, è più, affinché si potesse continuare a credere che il terremoto non può essere previsto. Questo è un falso. Svegliatevi, perché tutte queste persone della provincia dell'Aquila, quelle più lontane, quelle che hanno soltanto sentito il terremoto, in questo momento hanno una grave responsabilità. Sono loro che devono attendere alla sicurezza di tutti gli aquilani. È importante, perché noi, tutti gli aquilani, sentono ancora il forte stress del terremoto, sono ancora scioccati. Per cui io considero aquilani anche le persone di Pescasseroli, le persone di tutto il circondario della nostra provincia. Tutta la nostra cultura è la loro cultura. Loro lo hanno sentito meno toccante di come lo abbiamo sentito noi. Vi prego, stateci, siate vicini a noi in questo momento, perché la ricostruiremo la nostra città, l'Aquila, e la ricostruiremo anche con il vostro aiuto, perché l'abbiamo ricostruita già tre volte, la ricostruiremo questa quarta volta. Per oggi, Gianpaolo Giuliani ha una missione. Sì, beh, tutta la mia vita è stata una missione. Sono stato fortunato in questo. Ho potuto fare nella mia vita tutto ciò che mi piaceva e per questo forse mi è venuto bene. State tranquilli. Sì, starò attenti a tutti voi. Grazie.